Ecco, bella azione, Nete, Nete, la quarta Nete ad Osera di Pagano, Pagano porta 4 a 0, il risultato a nostro favore e ci troviamo ancora nel primo termine, Pagano, Pagano, bravo. Ecco, Pagano, 4 a 0, 4 a 0, due gol di Damario, il terzo gol di Colamartino, Colamartino? Chi? Capaccio 3 a 0, no? No, Filomarino. Ah, Filomarino, scusate, scusate, è la quarta Nete ad Osera di Pagano, adesso...